Ciao a tutti, io sono Martina e oggi è il 25 dicembre, infatti come potete vedere abbiamo cambiato location e siamo di fianco al mio albero di Natale Mi sono anche fatto i boccoli, ci ho messo veramente tantissimo però ho detto oggi è Natale dai facciamo qualcosa di particolare E tra l'altro non sono truccata perché voglio farvi vedere come mi trucco Infatti il video di oggi è una specie di vlog e vi farò vedere appunto come mi preparo e poi faremo un unboxing di un pacco che mi è arrivato Spero che il video vi piaccia, fatemi sapere nei commenti se vi piace vedere dei vlog, a me piace tantissimo farle E quindi niente, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video e potete anche seguirmi su Instagram A questo punto direi che possiamo trasferirci in bagno per toccarci Benvenuti del mio bagno, io qui ho uno specchio che posso tirare avanti così mi vedo Direi che per prima cosa mi metto queste due meravigliose magiche mollette per non avere i capelli davanti E adesso devo capire come truccarmi Allora sono messi a te di verde quindi fai un trucco verde Visto che alcune persone mi hanno chiesto di far vedere come mi trucco oggi vi faccio vedere questo trucco Che è abbastanza semplice alla fine Allora uso una palette così che ha un sacco di colori, mi trovo molto bene E prendo un colore color panna Semplicemente per usarlo come color di transizione E poi un barroncino e lo sfumo Una volta fatta questa sfumatura molto naturale Quello che faccio è aggiungere un pochino di intensità ma veramente molto poca nella piega Così A questo punto che mi ha fatto l'ombreggiatura nella piega dell'occhio andiamo a fare la parte più importante Ossia la codina Io lo faccio con gli ombretti perché mi piace molto l'effetto sfumato ultimamente Però anche con l'eyeliner ovviamente ci sta Diciamo che è un po' più strong Comunque lo faccio anche con il pennellino E basta, cioè proprio con l'ombretto così Ma quando vado di fretta uso un trucchetto tattico che vi faccio vedere Che non smette mai di andare di moda Ovvero sia prendo un pezzetto di scotch Dando un'angolazione che mi piace Comunque mantenendola alla fine dell'occhio e non troppo sopra Quello che faccio è andare a prendere un'altra paletta Io utilizzo questa E prendere un colore di marroncino E vado a sfumare bene alla fine dell'occhio Facendo questo effetto diciamo allungato Con un pennellino così angolato Prendo il marrone più scuro Non ne prendo troppo E vado a fare una riga Proprio così Anche prendendo l'attaccatura delle ciglia Per usare questo specchio magari Mi vedete meglio A questo punto Prendo un pennellino a sfumatura Lo sporco leggermente di questo colore E vado a sfumare bene La forma dell'eyeliner è molto soggettiva Nel senso che dipende molto dalla forma dell'occhio che avete Per esempio una forma magari così che va bene a me Fatta su di voi Non ha lo stesso risultato Perché dipende dalla forma dell'occhio Infatti tipo quando vedevo tutte quelle make-up artists Che facevano una riga drittissima Perfetta Io se provo a farla poi mi viene male Cioè tenendo l'occhio aperto È così Magari anche carino Ma se lo chiudo Non è dritta perfetta Quindi bisogna un attimo adattarsi Lo intensifico un po' Facendo una fine definita Ok direi che a questo punto è fatto Quindi posso andare a togliere E tada È avuto bene no? Mi piace? E a questo punto vado a mettere Giusto per riprendere un po' il verde del mio vestito Questo glitterato verde È bellissimo E infine uso Sempre un po' il marvincino di prima Chiaro E lo sfumo qui Per insomma Mischiare un po' con i glitter Perché non mi piace l'effetto Quello netto E infine Ultimo passaggio Con il dito pulito Direi il mignolo Applico Un pochino di illuminante O comunque un colore chiaro Qua Mi piace usare le dita Perché applicano meglio i glitter Però con le unie un po' scomodo Adesso vado a fare l'ombretto Anche su quest'occhio Con la molletta che cade sempre E poi dopo Metterò il mascara E finiremo Il rasso della faccia Tadam Ho fatto anche l'altro occhio E adesso finiamo Il trucco occhi Con del mascara E utilizzo questo Di Essence Questo è risultato con il mascara E adesso faccio le sopracciglia Io ultimamente utilizzo soltanto Un gel trasparente E poi Tra l'altro Nell'ultimo periodo Mi sta piacendo molto L'effetto del bronzer E del blush Infatti Io non mi sono mai messa Nessuna delle due Ma ho sempre avuto Questa palette Di Pupa Che utilizzavo Semplicemente Come ombretti E praticamente Poi ho deciso Vabbè dai Una volta Provo Soltanto per vedere com'è E alla fine mi è piaciuto Quindi oggi vi faccio vedere Come faccio È praticamente impercettibile Però io lo vedo Perché non sono abituata E quindi Nel senso Alla fine mi piace Avevo un po' più di colore Anche perché io Di incarnato sono Molto chiara Come potete vedere Quindi Un po' di blush E di terra Non fanno male In primis Questo colore Molto chiaro Con un pennello angolato E poi Intensifico Col colore Un pochino più scuro Ora posso andare Con il blush Mi piace molto Questo colore Perché è Molto leggero Non so se si nota Però sono Leggermente Pi' colorata Lo vedo Qua da impercettibile Mi va bene così E vado a applicare Un po' di illuminante Questo mi piace davvero Tantissimo Vi faccio vedere Quanto brilla Brilla veramente tanto Punta nel naso E bridge Non so se si può Che ponte E poi Ovviamente Ovviamente L'arco di cupido Complito il tutto Con Del gloss Direi che Ogni Natale è diverso Infatti l'anno scorso Penso di essere Sola rossa Invece Quest'anno verde Però Questo è il look Finito Ok Siamo tornati Di fianco All'albero di Natale Perché infatti Mi è arrivato un pacco Che voglio aprire Qui con voi Il pacco Mi è arrivato Da No Wave Che è Un brand Di occhiali E adesso vi faccio vedere Che cosa mi hanno mandato Ho aspettato Ad aprirlo Per farlo con voi Allora Uno spray Per pulire E poi La scatola Mi piace un sacco Allora Li provo E poi vi spiego bene Cosa sono No Sono bellissimi Poi il colore È troppo carino Come sto? No davvero Allora Adesso vi spiego bene Che cosa sono Allora Come vedete Hanno un riflesso Ma in realtà Sono degli occhiali Neutri Infatti Non sono graduati E servono Per proteggersi Dalla luce blu La luce blu È la luce Che Diciamo È sparata Dai computer Dai telefoni Dalla tv E infatti Questi occhiali Sono molto interessanti Per tutte quelle persone Che passano tante ore Davanti al computer Oppure magari Che guardano anche Semplicemente tanto Il cellulare Perché ha senso Proteggersi dalla luce blu? Allora Non so voi Ma con la didattica Che a distanza Sto veramente tante ore Davanti al computer Anche perché Avendo tutti gli appunti Lì Non li stampo E mi trovo bene A studiare lì Quindi il fatto di passare 8-10 ore Al computer Oltre a far venire Gli occhi rossi Fa anche venire Mal di testa Fine giornata Cioè non so voi Ma io mi sento Molto stanca E questi occhiali Appunto che proteggono Dalla luce blu Prevengono questi due problemi E secondo me È molto interessante Appunto perché In questo periodo In cui dobbiamo stare Tanto tempo al computer È anche bene Proteggersi Da questo genere di problemi Tra l'altro Visto che loro Hanno un sito online Che vi lascio qua sotto Le montature Si possono provare virtualmente Infatti c'è appunto Una schermata Su cui voi cliccate E che vi fa vedere Appunto Come stanno Le diverse montature Su di voi Cosa è molto comodo Perché infatti Io sono riuscita a scegliere Il modello Grazie a quello E tra l'altro Ci sono diversi colori Diverse forme ovviamente E sono molto interessanti Perché sono sia per donna Che per uomo Ovviamente Ho un codice sconto per voi Che potete utilizzare Sul loro sito Ve lo scrivo qua Un'altra cosa Che voglio specificare È che il pacco È arrivato letteralmente Dopo due giorni Comunque mi è arrivato Il 24 dicembre Quindi velocissimi E avete anche la possibilità Di fare un reso gratuito Entro 30 giorni Quindi questo è molto comodo E tra l'altro Volendo potete anche Aggiungere La gradazione Che volete Se appunto Voi portate gli occhiali Di norma Oppure potete renderli Fato cromatici Quindi se vi arriva La luce del sole Per esempio Diventano occhiali da sole Fatemi sapere nei commenti Se vi piacciono Poi sono molto leggeri Quindi anche se non portate Gli occhiali Non li sentite assolutamente E poi mi piace molto Il fatto che la lente Che abbia un leggero Che abbia un leggero riflesso blu Tra l'altro vedo Tutto filtrato Leggermente di giallo E questo Alleggerisce un attimo La vista Perché infatti Senza occhiali La luce Arriva molto più forte No? Così invece Si vede che è filtrata Tra l'altro Essendo neutri Non ingrandiscono Ne rinquiccioliscono gli occhi Quindi sono proprio belli Davvero mi piacciono molto Sia esteticamente Che come comfort Proseguendo con questo vlog natalizio Vi faccio vedere i regali Che ho aperto oggi Ho ricevuto regali Da due persone Cioè i miei E un'amica di mia mamma E non ho ricevuto tanti regali Ma alla fine Quelli che ho ricevuto Mi piacciono molto Quindi sono contenta E ora ve li faccio vedere Allora L'amica di mia mamma Mi ha regalato Questa Che è una maschera Che si può riscaldare O raffreddare Per metterla sugli occhi Ed è bellissima Il colore è stupendo Poi vabbè È davvero morbidissima Non vedo l'ora di provarla E poi La mia mamma mi ha regalato Mia mamma i miei pap Però insomma Mia mamma l'ha preso Un pacchetto da Sephora E sono Una palette occhi E Un gloss Non li ho usati oggi Per truccarmi Perché mia mamma Mi ha detto che Se voglio Posso andare a vedere Se magari Ci sono altri colori Per i due Se magari Li preferisco a queste Quindi non li ho aperti E alla fine Posso considerare anche No way Come regalo di Natale Visto che mi sono arrivati Il 24 Comunque Ci tengo a precisare Ovviamente I prodotti che vi faccio vedere Nei miei video Sono cose che Interessano realmente a me E che vi suggerisco Proprio perché Mi piacciono Non porterò mai Qui sul canale Dei prodotti Che non ritengo Da consigliare Perché appunto Ci tengo a consigliarvi Soltanto cose di qualità E che realmente Mi piacciono E che consiglierei A un'amica Cioè se una mia amica Viene da me E mi chiede Senti ma Qual è un regalo Natalizio Che ti viene in mente Allora glielo dico E sono onesta Non è che Vi consiglio delle cose Soltanto perché Me li inviano Infatti io Ci tengo comunque A specificare Che io non ci guadagno Niente Dal consigliarvi Questi prodotti E quindi Spero soltanto Che sappiate questa cosa Perché Ci tengo a essere Completamente trasparente Con voi Perché Siete i miei followers Però siete delle persone A cui voglio bene E che so Che mi supportate sempre Quindi Non vi prenderei in giro Proponendovi qualcosa Che a me in primis Non piace Dopo questa premessa Che era dovuta In realtà Non ho detto tempo fa Perché lo dovevo Per scontato Però È giusto dirvelo Ecco Perché magari Non tutti lo sanno Magari Potete anche avere il dubbio Che io semplicemente Propongo delle cose così Ma che realmente Non mi piacciono Posso passare L'ultima cosa Che vi voglio far vedere Che è praticamente Il regalo di Natale Che ho fatto per il mio fidanzato Abbiamo deciso di farci Dei regali Semplici Perché comunque Il nostro regalo Di 18 anni E andare a Londra E alla fine Non siamo riusciti Per il covid Ovviamente E quindi abbiamo deciso Che ci facciamo Dei regali Più tranquilli A Natale E utilizzare magari Un budget più alto Per il viaggio Poi in sé E alla fine Ho deciso di fare Un regalo Fatto da me Ci ho messo Veramente tanto tempo A farlo Ora ve lo faccio vedere Così vi tolgo La curiosità Non so se siete Veramente tanto come regalo È semplice Molto molto semplice È un pensiero Adesso è pomeriggio Un pochino di brasato Che è una specie Di arrosto Erano buonissimi Tra l'altro Poi abbiamo finito Mangiando i dolci Ieri ho fatto Un dolce A 4 strati Pistacca e cioccolato Quindi L'abbiamo ovviamente avanzata Non è che l'abbiamo finita E l'abbiamo mangiata Anche stasera E devo dire Che quella È venuta veramente Tanto bene Penso che la rifarò Magari potrei fare Anche un video Quando la rifarò E il mix Pistacca e cioccolato Mi fa impazzire Quindi niente Dire che È stato un bel Natale Ovviamente Nei limiti Della covid Della situazione Però Devo dire Che è stato bello Alla fine Io non so voi Ma Noi a Natale Uscivamo magari Dopo cena Semplicemente Per fare una passeggiata Però Alla fine In Natale Si passa in casa Anche in una situazione Normale E quindi niente Spero che voi Vi state divertite Abbiate passato Un bel Natale E anche una bella vigilia E ci vediamo In un prossimo video Ciao